Ciao ragazzi, come potete vedere mi trovo qua in villeggiatura, come potete vedere anche nelle mie spalle. In questi giorni purtroppo non potrò vedermi con il mio amico Alberto, però prima di partire per le vacanze abbiamo pensato di lasciarvi qualche video che verrà pubblicato in questi giorni. Spero che vi piacciano, al mio ritorno sarà prevista anche qualche novità, sapete tutti che insomma Alberto è il titolo del Parma, farà delle live con telecroniche delle partite, io sto studiando di farle con quelle della Juve, adesso vediamo, comunque abbiamo pensato comunque di non lasciarvi soli e nei prossimi giorni appunto, come dicevo prima, verranno pubblicati dei video che abbiamo fatto prima di partire. E niente, adesso vi saluto e ci vediamo il mio ritorno. Un bacio a tutti, ricordatevi di mettere un like ai video e di attivare la campanellina. Ciao a tutti!